ciao a tutti benvenuti ben trovati in un mio nuovo video oggi tante novità iniziamo sono qui già con la base fatta perché voglio provare insieme a voi uno degli ultimi l'ultimo 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 acquisto che ho fatto in questo periodo è nella valetta di revolution in collaborazione con la disney per the lion king momento asmuro asmuro notavo in questa palettina questi dettagli questi piccoli disegni stilizzati neri comunque ci sono dei colori molto belli in questo pack allora i colori della palettina sono proprio eccoli perfetto questi sono proprio questi i dettagli sulle cialdine ecco così sulle cialde ci sono in rilievo questi disegni vi dico velocemente lo sono utilizzato dalla base quindi il primer viso che ho utilizzato è caduto per questo lo trovavo e questo qui della revolution è sempre lui mentre il primer viso che ho utilizzato sotto gli occhi e questo qui idratante della catrice poi hanno fatto uno scrub alle labbra e ho utilizzato questo di essence trovato nel calendario dell'avvento un sapore un olore buonissimo poi il fondotinta che ho utilizzato sempre di foglio ma stavolta è della linea skin evolution poi la cipria un correttore sempre di foglio correttore li ho utilizzato sempre di foglio con il color corrector di tipo e per illuminare stavolta utilizzato un altro correttore che ho acquistato tempo fa e questo che non ho mai utilizzato perché è molto chiaro è molto chiaro per la mia carnagione e quindi l'ho deciso lo sguaccio qui e quindi ho deciso è molto chiaro appunto per la mia ragione quindi ho visto che si adatta molto bene nella zona nel contorno occhi per illuminare quindi ho utilizzato questo la powder che sono andata utilizzare per fissare tutto è quella di revolution acquistata recentemente questa qui e questa è la colorazione blush ok non ci sono molte novità prodotti che uso per blush contour e bronzer sono contour e questo della palette di essence per riscaldare un po questo della palette di cadris e il blush che ho utilizzato e sempre quello della revolution colorazione peach bliss ho messo dopo aver fatto lo scrub il libano della revolution questo al cocco forse così vi piacevo e che altro messo ok le sovracciglia ho utilizzato ovviamente lui ovviamente lui per fissare come già per fissare poi per riempire e perfezionare i dettagli delle sovraccigli ho utilizzato la matita di astra geisha brows e la matita di fogaro che utilizzo sempre che si chiama super fine brow pencil artista qualcosa e siamo arrivati quindi a questo punto hanno utilizzato anche un prodotto di mix cosmetic in alcune parti che questo è lo stick e questo è lo stick per ridurre per far sparire completamente i vori e l'ho utilizzato in questa zona dove ho i vori più accentuati quindi questa zona qui ovviamente sappiamo il primer per me è d'obbligo primer occhi e d'obbligo e vado ad utilizzare questo di essence che sto provando a chi mi sta pesando devo dire comunque nel tempo vi darò un'opinione più sicura ancora mi sembra un po prestino con sicurezza nell'applicazione adoro questo prodotto nell'applicazione nella stesura perché si autosetta uniforma il colore possiamo dare adesso ho assunto un colore omogeneo è omogeneo proprio il prodotto e quindi c'è nella stesura nell'applicazione promosso da una 10 10 il colore di transizione che vado ad utilizzare è questo non mi aspettavo questa iscrivenza iniziale vorrei proseguire per avere un pannellino più di precisione non mi aspettavo questa iscrivenza iniziale vorrei proseguire per avere un pannellino più di precisione perché se no andiamo in australia adesso il colore che vado a mettere sulla palpebra mobile è questo è di solito prendere questo fucsia e restare all'attaccatura se riesco delle ciglia esatto e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma questo qui è un colore molto particolare. Ecco, è un fucsia scuro con una leggera tonalità di viola, quindi penso di metterlo all'esterno dell'occhio per definire e amalgamare il fucsia e il rosa, il rosa lilla che ho sulla palpebra. Grazie. Ripeto, io vorrei mettere questo, questo qui, che è questo qui, su tutta la palpebra. Grazie. 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 Provo a mettere questa arancione nella parte inferiore dell'occhio. E facendo questo cerco di unire i due colori, cioè l'arancione e il fucsia, il violaceo. Questo dolore è inaspettato, perché è come mischiare un fucsia con una punta di viola. Quindi a me piace molto questo colore. Io spesso cerco di, mischiando fucsia e viola, ottenere un fucsia scuro, violaceo. Quindi è stata una sorpresa questo colore, una piacevole sorpresa. Ho cercato di utilizzare più colori possibili di questo coletto, perché per mostrarli a voi e anche perché mi piace provare così una paletta. Cioè cercando di vedere se tutti i colori sono scriventi, la donalità, il fallout. E devo dire che dopo averli provati mi piacciono tutti i colori, tutti i colori provati. C'è un'ottima scrivenza, fallout. Non vedo fallout. Sulla palette praticamente inesistente. Quindi posso rigenermi soddisfatta dell'acquisto di questa palette. Questa palettina. Adesso finisco il make-up occhi. Metto il mascara. Non so se... Metto l'eyeliner. Metto l'eyeliner, metto il mascara e ci rivediamo. Ecco fatto, sono tornata qui. Quindi per gli occhi ho utilizzato l'eyeliner, sempre quello di Focalure, ed è questo. E poi mascara. L'eyeliner ho messo anche nella rima ciliare superiore interna. Il mascara. Quindi ho utilizzato per dare forma questo di Kiko. Diciamo per allargare un po' lo sguardo. Questo di Essence. Questo di Essence. Per dare un po'... Per riuscire a prendere bene tutte le ciglia. Ed allungarle. Questo di Catrice. Per renderle molto nere. E ancora più lunghe. E infine per quest'occhio ho utilizzato lo scopolino. Perché questo mascara è finito. Di questo mascara che è così. A banana. Quindi le pettina bene e le incurva. Perché le ciglia di quest'occhio tendono a stare dritte. E sulle labbra ho messo il lucidalabbra di Essence. È bellissimo. Colora leggermente e le rende molto morbide. All'interno dell'occhio ho messo l'illuminante della Loveli. Che ho utilizzato anche per illuminare questa zona del viso. Qui mi illumino. Da me più in là. Spero che il video vi sia piaciuto. E vi abbia tenuto un po' di compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi. Noi ci vediamo domenica con un altro video. Vi auguro una buona giornata. Ciao!